Il Servizio Forestale Regionale ha conferito al Vivaio Forestale della Biodiversità Garganica del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano l'importante riconoscimento di bosco didattico della Regione Puglia, procedendo quindi alla sua iscrizione nello specifico albo regionale. La struttura vivaistica consortile, ubicata presso la sede storica di San Marco e Lamis, Borgo Celano, già in possesso della certificazione di vivaio forestale regionale, ospita oltre un centinaio di specie arboree e arbustive autoctone per una produzione annua di circa 200.000 piantine destinate agli interventi di forestazione pubblica e privati forniti a prezzo di costo. Il vivaio forestale per la biodiversità garganica ospita inoltre l'orto botanico delle specie rare del gargano e dei fruttiferi in via di estinzione, oltre alla banca semi delle specie autoctone allevate. Il tutto è in linea con gli indirizzi nazionali e internazionali per la conservazione della biodiversità. Siamo particolarmente orgogliosi per questo significativo riconoscimento, ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Eligio Terrenzio, perché in tutte le nostre attività vi è sempre una primaria attenzione ai temi dell'ambiente, e in questo caso della biodiversità floristica del gargano. Grazie.